Diciamo che è stato un altro giorno da noi, sia per l'attacco che per tutta la squadra. Non è colpa di un singolo giocatore, ma è un po' di tutta la squadra. Dobbiamo cercare di imboccarci le maniche e comunque andare avanti. E' già da domenica, con la Paganese, fare un altro tipo di prestazione. Cosa ti fa un po' ricordare come la tua vecchia vecchia, quello di qualche anno fa, quello che hai visto? Sicuramente chi viene a giocare a Messina sa che deve dare il 100%, perché è una piazza molto esigente. È una piazza molto valiosa, quindi ho fatto una vetrina anche per i giovani. E quindi questo, hanno fatto un ottimo campionato e si è visto oggi con la detentazione e la voglia di fare grandi cose, si è vista in merito veramente a Messina. Grazie a tutti.